Di nuovo in diretta qui da Piazza San Donato, meglio nota ai locali come Piazza del Duomo, cuore pulsante di questa 48esima edizione della rassegna dell'artigianato pinerolese. La pioggia per il momento insomma ci lascia abbastanza stare, il cielo è abbastanza minaccioso, ma noi resistiamo. E allora abbiamo aperto con questa immersione nella danza, nella natura e adesso ci spostiamo a teatro ed è con noi con grande piacere che ritorna ai nostri microfoni Franco Milanesi, assessore alla cultura e alla scuola della città di Pinerolo, perché oggi insomma viene in qualche modo ufficializzato il nuovo calendario, il nuovo cartellone del teatro sociale che come ogni anno ci propone una grande varietà e anche una grande qualità negli spettacoli che ci propone. Intanto ciao Franco, ben tornato ai nostri. Grazie, ciao, un saluto a tutti. Allora è sempre quasi come scartare un regalo di Natale o di compleanno quando esce il programma del teatro. Anche quest'anno vi siete impegnati sempre in collaborazione con Piemonte dal vivo per creare un cartellone di grande qualità che porti nomi attraenti ma che vada un po' anche a percorrere il teatro il più possibile a 360 gradi. Vedo di nuovo ecco una grande varietà come generi di spettacolo. Sì, abbiamo puntato con Piemonte dal vivo perché la collaborazione con Piemonte dal vivo è fondamentale perché Piemonte dal vivo presenta una sorta di canovaccio su cui poi lavoriamo per definire il programma dell'anno. Abbiamo puntato sulla qualità e sulla varietà, come detto, degli spettacoli. Quindi ci sarà danza, ci sarà musica che sono due elementi che possono apparire un po' estranee alla dimensione teatrale però di fatto stanno dentro anche lo spettacolo, la modalità del rapporto col pubblico e poi c'è la stagione vera e propria tradizionale. Abbiamo cercato di rinnovare proprio la tradizione da questo punto di vista di Pinerolo proponendo spettacoli, c'è Shakespeare, ci sono opere di avanguardia, ci sono lavori molto innovativi da tutti i punti di vista e quindi cerchiamo di offrire un raggio molto molto ampio di tipologie proprio di rappresentazione teatrale. E poi insomma alcuni nomi che come sempre di cartellone, alcuni sono anche ritorni perché Ambra Angiolini è già stata qui e Tullio Solenghi anche aveva interpretato, mi ricordo, un Molière proprio invece qua torna in coppia con Massimo Lopez riproponendo un po' qualcosa che riguarda anche un po' la nostra giovinezza in qualche modo vedo il Giardino dei Ciliegi che insomma fu da sfondo al grande film Tournée che infatti sono molto curioso poi di vedere l'interpretazione ecco ci puoi spiegare brevemente anche quali sono le formule con cui i cittadini e le cittadine pinerolesi possono usufruire ci sono diverse formule di abbonamento, ci sono spettacoli fuori abbonamento come ecco è possibile fruire di questa stagione? Certo, dunque ci sono tre tipologie di abbonamento c'è l'abbonamento a tutti gli spettacoli che sono 13 spettacoli in abbonamento poi c'è una formula middle e c'è l'abbonamento piccolo per 6 spettacoli 13, 9, 6 si possono, la prima apertura sarà per chi rinnova l'abbonamento per chi fa il rinnovo completo e poi ci sarà l'apertura per i biglietti e anche per i quattro spettacoli fuori abbonamento e ricordo una cosa che a noi sembra comunque che è significativa il prezzo è rimasto invariato il prezzo degli abbonamenti e dei singoli spettacoli tranne il primo che è uno spettacolo fuori abbonamento di apertura che è un po' particolare, se no il prezzo è sempre quello perché ci è sembrata significativo anche come welfare culturali il teatro è un impegno per la città di Pinerolo un impegno per l'amministrazione però crediamo che sia fondamentale rinnovare ogni anno questa offerta Certo, certo, ecco uno degli obiettivi di cui avevamo anche parlato nelle scorse edizioni della stagione teatrale l'idea, la voglia, il desiderio di attrarre maggiormente anche le generazioni più giovani che forse hanno un'idea ancora del teatro come un momento più maturo della propria esperienza mentre invece proprio anche già a partire dal calendario c'è l'idea di coinvolgere una fascia della popolazione più giovane attraverso quali strumenti oltre alla programmazione cercate di coinvolgere i giovani? Beh, innanzitutto c'è una scontistica che non è una cosa da poco perché sia per la carta Piner Cult ma in ogni modo c'è anche un tetto proprio anagrafico per cui i giovani possono accedere con uno sconto sia per gli abbonamenti che per i singoli spettacoli e questo ci sembra significativo abbiamo puntato molto anche sulla tipologia proprio degli spettacoli non è, come hai sottolineato, un nome come Ambra è comunque un nome di richiamo un nome come Lopez è comunque un nome di richiamo ma ci sono altri passaggi diciamo teatrali, momenti teatrali che crediamo che vadano a intercettare anche un gusto giovanile e la possibilità quindi di aprire forme espressive che sono molto... lo spettacolo di danza per esempio è interessante perché di anno in anno vediamo una risposta più significativa e più importante alla danza anche sottolineo un altro elemento che è quello del 31 dicembre 31 dicembre quest'anno faremo una All the Jazz che è All the... pardon... All the Musical che riprende il titolo All the Jazz e sono... è una sorta di collage di danza e musica dei grandi spettacoli musicali dei grandi musicali quindi si rinnova anche questa tradizione del Capodanno a teatro che insomma negli anni ha offerto grandi spettacoli ti faccio uscire adesso un po' dal vestito dell'assessore per entrare un po' in quello dell'insegnante che ti ha caratterizzato insomma per tutta la tua vita e quindi vorrei che rivolgessi un invito anche alla cittadinanza e specialmente appunto ai più giovani sull'importanza e sul valore che ha l'andare a teatro il vivere il teatro Sì, qui mi rivolgo appunto agli studenti sottolineando questo forse il teatro è fra tutte le forme d'arte quella più complessa e più completa perché c'è espressione corporea c'è un testo, c'è scenografia, c'è movimento c'è un rapporto veramente empatico, profondo e aperto con il pubblico quindi credo che sia al di fuori del tempo in qualche modo il teatro noi possiamo rappresentare Euripide o l'autore teatrale di oggi in un modo estremamente innovativo e con una forza comunicativa che altre forme d'arte hanno meno o meglio sono più caratterizzate dalla propria temporalità in qualche modo dal momento della creazione il teatro si rinnova inevitabilmente automaticamente di volta in volta c'è anche un dialogo tra le diverse epoche assolutamente sì, è inevitabile nel momento in cui io lo porto in scena Chekhov è chiaro che faccio rivivere quella situazione con altri costumi con un altro approccio che dialoga immediatamente con la contemporaneità e allora per chiudere io vorrei che così una suggestione un tuo ricordo legato al teatro magari che sia la prima volta in cui hai assistito a uno spettacolo di teatro o magari uno spettacolo che ti ha particolarmente colpito un aneddoto della tua vita che riguarda il teatro dunque un aneddoto interessante avevo vent'anni Torino Living Theatre che è un gruppo storico di avanguardia americano e mi ricordo che ero seduto nelle prime file e dal proscenio dalla scena dal palco è scesa un'attrice si è seduta sulle mie gambe mi ha guardato fisso negli occhi e ha cominciato a dirmi I am your slave I am your slave sono la tua schiava sono la tua serva ed era una cosa io ero rimasto ovviamente impalato ed era una rappresentazione dove avevano coinvolto il pubblico era una cosa molto politica anche che aveva una forte valenza politica che voleva proprio dimostrare non tanto c'era anche l'aspetto diciamo di genere ma soprattutto la dimensione diciamo della povertà e quindi lo schiavo come una nuova figura e mi ricordo che appunto ventenne con questo dialogo improvvisato è rimasto impalatissimo però era stato un momento molto forte allora insomma speriamo che anche da questo calendario possiate avere momenti da ricordare poi raccontare legati al teatro io ti ringrazio Franco per essere stato con noi e naturalmente non vedo l'ora ecco che inizi questa nuova stagione di cui personalmente sono anche un appassionato fruitore grazie venite a teatro grazie a presto grazie a tutti grazie a tutti